E' la festa per eccellenza a Campobasso, un tempo sagra dei misteri, oggi diventato più elegantemente festival. In questi giorni la città si divide tra chi non sopporta il caotico andirivieni delle migliaia di persone che invadono il centro e coloro i quali invece attendono con trepidazione l'arrivo delle bancarelle per immeggersi nei colori e nei suoni della festa. Lo sguardo in queste ore rivolte anche al cielo, ma è così poco amico in una primavera che non ne vuole sapere di sbocciare. Nel ricco programma predisposto da Palazzo San Giorgio, in attesa della sfilata dei misteri di domani, oltre alle centinaia di bancarelle ci sono eventi culturali e musicali per ogni palato. Dopo il concerto che ieri è aperto il trittico, quello di Sergio Caputo in piazza, nel pomeriggio toccherà il gruppo folcloristico di Agnone in uno spettacolo itinerante che prenderà il via alle 19. Poi alle 21 l'attesissimo concerto di Mannarino, migliaia di biglietti venduti in prevendita, in programma nello spazio ormai dedicato davanti allo stadio di Selvapiana. È alle 22.30 gratuito con un uncino degli Iuan e Dompero nella area spettacoli allestita in piazza della Vittoria. Ma è domani con la sfilata dei misteri che il Corpus Domini toccherà il clou. L'uscita dal museo di Via Trento dopo la messa e la vestizione del mattino è prevista alle 10. Tante le novità di quest'anno a partire da alcuni rinnovati personaggi sugli ingegni. Come sempre, Tele Molise seguirà tutto l'evento in diretta, a partire dalla messa fino al rientro in museo dopo il rito della benedizione in piazza Municipio. Come sempre, Tele Molise seguirà tutto l'evento.